Questa è un'iniziativa che abbiamo sostenuto e appoggiato come ufficio scolastico regionale proposta dall'ordine dei psicologi che serve a portare un pochino nelle scuole una riflessione tra i ragazzi e anche tra i docenti su quello che è l'uso responsabile del denaro, con tutte le sfaccettature che ci sono poi attorno a questo tema che sono anche le dipendenze, le scommesse e via dicendo, con tutti i rischi che ci sono se non riusciamo a fornire anche ai ragazzi e ai docenti una riflessione che sia quanto più approfondita e seria sull'argomento quindi l'ufficio scolastico regionale appoggia tutte queste iniziative e crede molto nell'aiuto e nella collaborazione che può venire dall'ordine dei psicologi che sicuramente avranno gli strumenti anche professionali e specialistici per darci una mano in questa direzione.